Musica Benvenuti a Firenze alla 38esima edizione del Congresso Nazionale Andaf, l'Associazione dei Direttori Finanziari e Amministrativi. Oltre 200 CFO responsabili della finanza d'impresa hanno scelto Firenze, cula del rinascimento, per discutere della rinascita del paese. L'Italia che vogliamo, le riforme per la ripresa. Musica Vogliamo un paese dove le imprese possano operare e svilupparsi in termini più competitivi rispetto a quelle degli altri paesi con i quali competiamo. Oggi purtroppo da molti anni non è così, in quanto le imprese italiane sono soggette a tutta una serie di condizionamenti e penalizzazioni nei vari ambiti che ledono la competitività del sistema Italia. I risultati sono sotto gli occhi di tutti in termini di decrescita del PIL, in termini di disoccupazione che avanza con tutti gli effetti anche sociali che un contesto del genere sta provocando. Musica Qual è l'Italia che vogliono i CFO? Quali sono le riforme che in questo momento servono alla ripresa? Le riforme sul lavoro sono già state avviate in queste ultime settimane e dobbiamo dire che vanno perfettamente incontro all'esigenza delle imprese. Mi riferisco in particolare alla eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP. L'IRAP è un'imposta odiosa perché colpisce il costo del lavoro. La nuova disciplina sui contratti a termine e le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato sono elementi fattuali molto concreti al fine di superare questo sistema di eccessiva precarietà nel mondo del lavoro e per incentivare anche le aziende ad assumere. Non ho citato volutamente il tema dell'articolo 18 perché a mio modo di vedere è un tema soltanto ideologico che già la riforma Fornero aveva notevolmente svuotato di contenuti. Qual è l'Italia che vogliamo? L'Italia è un paese straordinario. L'Italia penso che abbia semplicemente bisogno di qualcosa di facile e cioè meno burocrazia. Le piccole e medie imprese che sono il tessuto di questo paese devono venire supportate e il sistema creditizio, le banche in primis dovrebbero darci più certezze nei tempi in cui vengono anche erogati finanziamenti le piccole e medie imprese e dalla parte nostra le imprese devono dimostrare capacità nel fornire dei piani credibili e sostenibili di sviluppo. Abbiamo davanti una grossa opportunità, una grossa sfida ma anche opportunità, cioè la possibilità di trasformare il rapporto tra l'amministrazione finanziaria e le imprese da un'ottica di controllo e repressione a un'ottica di inclusione, quindi riportare materia imponibile in Italia, quindi attirare le imprese che sono andate via, quindi quelle italiane che hanno lasciato l'Italia o quelle straniere che non entrano dando loro certezza e strumenti impositivi più competitivi rispetto al resto d'Europa. Questa è sicuramente una sfida con dati vincoli di bilancio, una serie di problemi, ma è anche una grandissima opportunità. Qualcosa c'è nella legge di stabilità e quindi speriamo che sia un segnale di un inizio che però si muova velocemente. L'Italia come viene considerata come mercato? L'Italia è un mercato chiave perché dentro il gruppo Clarion è il secondo mercato europeo, in termini di dipendenti di fatturato, abbiamo delle eccellenze in Italia, competenze specifiche in R&D, nella produzione e come paese abbiamo un'ottima reputazione dentro il gruppo. Quindi l'Italia va bene nel vostro gruppo? Va bene, abbiamo appena inaugurato un centro di ricerca che si chiama Project House, che è un innovation center che lavora su innovazioni relativamente al functional packaging, per esempio come si può allungare la vita del cibo e un imballo, quindi il yogurt come può durare di più nel bicchiere. Il gruppo ha deciso di mettere il centro di ricerca proprio in Italia, vicino al sito produttivo apoliano milanese. Quindi state investendo in Italia? Stiamo investendo, abbiamo fatto anche delle piccole acquisizioni, le chiamiamo Bold On Acquisitions, e comunque l'Italia, nonostante la reputazione che c'è ogni tanto in Germania, nel gruppo ha un'ottima reputazione e riusciamo a tirare investimenti anche in linee produttive, per esempio abbiamo un'attività delle Cava a cielo aperto in Sardegna, e lì costruiamo il più grande hub della Bentonite per il mercato europeo del gruppo. Scusi, ma detto da un tedesco, insomma questo è un bel incoraggiamento. Sì, ma anche il gruppo si è accorto che abbiamo delle eccellenze in Italia, delle competenze, e poi c'è la creatività, quindi riusciamo sempre a trovare una soluzione innovativa e creativa ai problemi. Sarebbe importante superare, e credo che siamo arrivati tutti a capire che bisogna farlo, io la chiamo la sindrome del gatto pardo, cioè quello di continuare a dichiarare su più fronti che vogliamo cambiare, ma poi alla fine non cambiamo niente, manteniamo, come si dice, la difesa dei nostri piccoli orticelli. Da questo punto di vista forse Ferrovie è un buon esempio di aver voluto cambiare, aver voluto affrontare la crisi anche qualche anno prima che arrivasse così forte, risanando l'azienda, ecco, cerchiamo di fare tutto il nostro dovere quotidiano per cambiare veramente i confini e i risultati del nostro sistema paese. I CFO vogliono un'Italia semplice che aiuti le imprese a crescere e a concentrarsi sulla loro attività, sul loro core business, sullo sviluppo, senza distogliere troppe attenzioni, troppe energie nel star dietro alla burocrazia e ai molti adempimenti spesso non necessari. Le riforme sono state finalmente avviate dopo troppi anni, l'importante è che questo percorso non si interrompa e continui con enfasi e con forza, cercando di limitare il veto di chi invece preferirebbe rimanere allo status quo per mantenere rendite di posizione che non ci possiamo più permettere. Proprio a Firenze con i colleghi dell'AIAF e dell'OIAFE nel 2004, lei era direttore finanziario del gruppo Fiat con Marchione che era appena arrivato. Assolutamente sì, sono passati tanti anni e tante esperienze da allora, però il ricordo è sempre molto piacevole di quel periodo. Nel frattempo è cambiata tanto non solo la Fiat che adesso è a Wall Street, ma l'Italia, il sistema paese. Siamo cambiati in meglio o in peggio secondo lei? Io credo che siamo cambiati, è difficile dire in meglio o in peggio, nel senso che si tratterebbe poi di fare dei sottinsimi e vedere in che aree siamo meglio o siamo peggio. Sicuramente la congiuntura economica risente del fatto che la crisi del 2008 ha fatto venire alla luce alcune debolezze strutturali, in particolare quelle delle grandi debito pubblico. Qualcuno ha detto una volta che non bisogna mai sprecare una crisi, nel senso che la crisi è anche un momento di grande cambiamento e quindi può essere sfruttato per cercare di cambiare in meglio e porre le basi per una futura crescita. Credo che un po' tutti i nostri contenitori stiano dedicando più attenzione all'economia e alla finanza perché sono parte integrante della crescita del Paese, quindi credo che sentirà, sì, assolutamente sì, che sentirà parlare di più di economia alla RAI. Lo chiedono anche le banche? Questo non saprei dirglielo, nel senso che non ho interlocuzione su questi temi con le banche. Credo che lo richiedano gli utenti. Che cosa state facendo in questo momento, soprattutto per dare l'esempio anche agli altri comuni italiani? Noi viviamo e amministriamo una città che nelle generazioni ha sempre stupito il mondo, non solo l'Italia, dall'arte all'architettura alla tecnologia all'economia. Qui sono nate le prime esperienze nel campo bancario e dunque non possiamo che trarre l'insegnamento di essere sempre pronti a mettere in discussione il contesto nel quale viviamo. Oggi più che mai, perché vivere in un Paese che è in crisi non significa, dal mio punto di vista, arroccarsi in un fortino, bensì giocare in contropiede, giocare in attacco. E allora, se è in arrivo una legge di stabilità che punta sui tagli alla spesa pubblica, dall'altro lato soprattutto punta ad abbassare drasticamente la pressione fiscale, a cominciare dalla quota del lavoro nell'IRAP, che a mio avviso è sacrosanto come obiettivo, noi dobbiamo, dal punto di vista degli enti locali e dei territori, seguire la stessa strada. Per questo a Firenze abbiamo intanto abbassato la pressione fiscale locale alle persone fisiche. L'addizionale IRPEF fino a 25 mila euro di redditi è zero nella nostra città. L'abbiamo azzerata ora nel bilancio. Ma anche per attrarre investimenti abbiamo, ad esempio, deciso di introdurre nel bilancio prossimo l'abbattimento per i primi tre anni dell'IMU per tutte le imprese che investono o assumono per la prima volta nel nostro territorio. Insomma, si può usare la leva fiscale sia per semplificare le regole che per sostenere le famiglie nel rilancio dei consumi e le imprese nella capacità di attrarle per fare investimenti. Il suo predecessore, attuale presidente del Consiglio Matteo Renzi, sta lanciando una manovra finanziaria che impone a regioni e comuni di fare dei tagli. Lei come intende affrontare questa manovra da 36 miliardi a Firenze? Con quali provvedimenti? Aumenterete le tasse o taglierete le spese? No, io ho già detto che non voglio perdere questa posizione di prima città esclusa Osta con le tasse locali più basse, quindi non le aumenterò affatto. Certo, dovrò riorganizzare il mio bilancio perché, vede, i bilanci di molte amministrazioni, non tutte, sono ancora costruiti sulla base di un modello di welfare, ma anche di un modello di governo locale che è di 20 anni fa, 30 anni fa. Il punto non è tagliare le singole voci ogni volta, un pezzetto, ogni volta, ma è riconsiderare il complesso della struttura di un bilancio e dunque della spesa pubblica. A mio avviso si può mantenere inalterata la qualità dei servizi riducendo la spesa, per esempio scommettendo di più sul rapporto pubblico-privato, nella cosiddetta sussidiarietà. Molti servizi possono essere realizzati con gli stessi standard qualitativi dalle imprese, riducendo i costi, riducendo anche gli sprechi. Noi abbiamo ridotto 4 milioni e mezzo di euro di affitti per gli uffici in 5 anni, in questo bilancio abbiamo ridotto ulteriori 1 milioni e 800 mila euro. Sono esempi, esempi concreti, esempi di amministrazione concreta con cui si può indicare una strada. Dunque, tagliare la spesa pubblica non significa necessariamente ridurre i servizi o, peggio, aumentare le tasse locali perché a livello centrale sono state abbassate, altrimenti si riduce fortemente quella spinta che può nascere da una legge di sviluppo e di crescita. L'Italia, ultima chiamata per la crescita. Perché ultima chiamata? Beh, ultima chiamata perché il nostro sistema produttivo ha accumulato una perdita del 25%, cioè un quarto del nostro sistema produttivo non c'è più e non è facile riprenderlo. Le famiglie stanno tenendo, grazie al ruolo che la coesione sociale ha nel nostro paese, che è molto più forte rispetto ad altri paesi, però anche le riserve poi vanno a terminare, quindi è davvero una last call per l'Italia. È il momento per l'Italia di fare la propria parte, cioè di fare delle riforme serie e importanti in tutti i settori che ben conosciamo, ma ci vuole anche un supporto dell'Europa. E con questa discussione che l'Italia sta avendo per quanto riguarda la politica di bilancio, io trovo che l'Europa, che la Commissione europea forse non ha ancora ben capito lo stato economico in cui siamo. Il talcemento è in un settore, quello dell'edilizia, delle infrastrutture, che è sicuramente in crisi in molti paesi, quindi l'Italia è molta parte dell'Europa, quindi sicuramente stiamo guardando a mercati nuovi, quindi con l'ottica di una multinazionale italiana, di cui siamo molto orgogliosi, stiamo cercando di vedere però anche opportunità di paesi che devono sviluppare ancora il mercato che a noi è più vicino che quello dell'edilizia. Lei che Italia vorrebbe? Ma io non la vorrei cambiare, io vorrei un po' più di regole, e anche le regole hanno bisogno di essere aggiornate ai tempi, come i prodotti, come le invenzioni, come tutto. Non c'è nulla che non si può cambiare o che rimane per sempre, solo le opere d'arte, i quadri e quello che hanno fatto gli altri italiani famosi, Leonardo e tanti altri. Io chiedo un'Italia con delle regole aggiornate. A che grado è il suo livello di fiducia? Altissimo. Io sono molto ottimista, credo che forse ora le cose si stanno muovendo, ho molta fiducia nell'attuale governo, credo che ci porterà a avere delle regole e avere delle regole stabili. Altra cosa importante, non solo quelle giuste, ma avere le durature, regole che si riesce a pianificare, perché nelle aziende abbiamo bisogno di fare investimenti, e gli investimenti si fanno se si riesce a pianificare a medio termine. Non parlo tempi lunghissimi, tre, cinque anni, e quindi questo aiuterebbe molto il mercato del lavoro. L'Italia è un paese fantastico, siamo fortunati, abbiamo tutto, abbiamo il turismo, la cultura, gli italiani, abbiamo la storia dei geni che ci hanno preceduto, e quindi io sono, confermo, molto ottimista. Si dice che questa sia anche una crisi di fiducia, le imprese non investono perché non hanno fiducia, non ci sono certezze. Che prospettive potrebbero esserci per gli investimenti da parte delle imprese, che è la componente che in questo momento grava notevolmente sul PIL italiano? In effetti l'entità degli investimenti non sembra particolarmente crescere, c'è una leggera inversione di tendenza, a questa ci possiamo aggrappare, nel senso che nelle ultimi due mesi la richiesta di credito finalizzata di investimenti, quindi macchinari e attrezzature, sembra rialzarsi. E questo potrebbe essere uno spiraglio. In realtà fino ad oggi avevamo assistito a richieste di credito in via prevalente per finanziare il capitale circolante. E questo naturalmente è un aspetto molto limitativo che anche il mondo bancario ovviamente valuta con molta cautela. Se invece la richiesta di credito è finalizzata all'investimento, che possono anche cambiare evidentemente le prospettive da parte del sistema bancario. Il tema del capitale circolante per noi CFO è un tema fondamentale nell'esercizio dell'attività d'impresa. E mai come negli ultimi anni, la gestione del capitale circolante è stata il cuore, il centro dell'attività del CFO. Perché nel momento in cui c'è razionamento del credito o credit crunch, nel momento in cui quindi le imprese non hanno la possibilità di accedere al mercato dei capitali, l'unica fonte di finanziamento è diventata la gestione del capitale circolante. Il che vuol dire minimizzare le scorte, cercare di incassare meglio e conseguentemente concentrarsi sui mercati dove si incassa meglio. Perché un aspetto fondamentale delle aziende che esportano non è soltanto un fatto di mettersi le mostrine e dice io sono un'azienda fortemente orientata all'export perché ho un prodotto tecnologicamente avanzato. Questo è certamente una condizione necessaria per ma il flusso di esportazioni comporta anche un altro elemento fondamentale che i termini di pagamento sul mercato internazionale sono molto più corti rispetto a quelli che normalmente adottiamo in Italia. Naturalmente incassare a 30 giorni anziché a 90 consente alle imprese un polmone finanziario di notevolissima importanza. Io credo che le misure adottate da Draghi siano perfette ma non illudiamoci che da sole quelle misure ci portino crescita ci permetteranno di tenere lo spread basso di avere i tassi di interesse bassi sia sulla breve termine che sulla componente più lunga della curva ma non è una LTRO che modifica la qualità del credito di un prenditore non è una LTRO che spinge l'impresa a fare investimenti ci vuole qualcos'altro. Quello che i governi spendono per investimenti dovrebbe essere escluso dal vincolo del 3%. Cosa significa investire? Investire significa dare delle opportunità ai giovani delle opportunità di crescita perché dobbiamo vincolarci con questo 3% L'ultimo forte appello ai leader europei è arrivato dal presidente della BCE Mario Draghi nel 2011 ha ricordato il numero 1 dell'Eurotower abbiamo evitato il collasso dell'euro grazie ad uno sforzo comune ora dobbiamo rifarlo di nuovo per evitare di ricadere in recessione avremmo bisogno di un consenso su una politica espansiva coordinata dal Consiglio europeo che potesse mobilizzare tutti gli strumenti europei ma anche coinvolgere i paesi che hanno spazio di bilancio a livello nazionale che è l'obiettivo irrinunciabile della presidenza italiana dentro il Consiglio europeo se vogliamo che la costruzione sopravviva. Quando si parla di 300 miliardi di investimenti dall'Unione europea in che termini? Quali sono le informazioni di cui disponiamo? Praticamente di nulla perché anche nell'audizione al Parlamento europeo Juncker prima dell'insediamento ha detto che entro dicembre farà sapere qualcosa ma non sappiamo come verranno ripartiti tra i paesi saranno investimenti davvero produttivi o molte di quelle cose che l'Europa costruisce che poi diventano delle cattedrali nel deserto ne abbiamo anche in Italia nel Sud Italia ad esempio ecco questo credo che rappresenti un limite grossissimo per quello che è il percepito dell'Europa da parte dei cittadini europei noi dobbiamo fare qualcosa perché gli italiani i tedeschi, i francesi i cittadini di tutta Europa siano felici di essere europei perché sono governati da una politica economica che punta alla crescita punta allo sviluppo da prospettive occupazionali per i giovani e così via questo oggi non possiamo dire di averlo Quali sono gli scenari futuri secondo lei? La mia scommessa è che l'investimento politico che abbiamo fatto nell'euro è troppo grande per disperderlo per ignavi e incapacità di decidere quindi tenderei a scommettere che questo accordo alla fine si troverà magari un po' di meno di quel che serve ma abbastanza per riprendere a sperare Ci sono anche dei rischi da considerare oggi in questo senso cioè il fallimento politico dell'Europa? Ci sono grandissimi rischi ci sono grandissimi rischi la coscienza di questi rischi nel passato quando siamo arrivati vicino ai punti di rottura ha sempre prodotto soluzioni che politicamente parevano impraticabili e anche abbastanza in fretta creazione dello SME salvataggio della Grecia momenti di crisi acuta la fine del sistema dei cambi flessibili ma gestiti nel 92 con l'espulsione dell'Italia del Regno Unito la lezione degli anni 30 in quegli anni la Francia impose alla Germania la stessa cura cambio fisso e aggiustamento per deflazione interna che oggi la Germania pensa opportuna per i paesi indebitati quell'esercizio finì con il default sul suo debito estero della Germania e l'avvento di Hitler adesso non vorrei drammatizzare ma diciamo non c'è dubbio che questo sentiero della deflazione competitiva è un sentiero impervio con rischi grandissimi l'Italia è un paese a rischio è un paese a rischio è un paese a rischio e purtroppo i dati lo evidenziano direi senza tema di smentita stiamo perdendo molte posizioni nei vari ranking internazionali e con indicatori che afferiscono anche a diversi aspetti e quindi certamente se non c'è un'inversione di tendenza molto chiara precisa e netta questa tendenza è destinata ad accentuarsi con delle conseguenze che sono evidenti La crisi a che punto siamo? Gli Stati Uniti sono nettamente usciti dalla crisi e stanno crescendo ad un ritmo del 3% anche piuttosto stabile è un mondo dove i consumi si sono ripresi dove gli investimenti viaggiano al 6% sono dei ritmi che in Europa sono impensabili e in Italia ancora peggio Io credo che l'Europa abbia stia commettendo un errore storico di politica economica estremamente forte nel ciclo nella storia delle economie mondiali non si è mai vista una ripresa guidata unicamente dalla politica monetaria è sempre necessario affiancarla a riforme strutturali importanti e anche ad una politica di bilancio che permetta di superare le difficoltà iniziali soprattutto con incentivi e investimenti diretti del pubblico per esempio nel campo delle infrastrutture o delle telecomunicazioni l'economia è ora in un tumore le grandi economie non crescono come si è rispetto gli mercati emergenti anche in China non cresce come si è rispetto 7.5 è inizialmente gli mercati emergenti necessitano per fare riforme importanti come come mexico in cui in order per attraver più investimenti il congresso ha passato nuovi luoghi che permette gli americani di arrivare nel settore il settore e il settore e le telecomunicazioni e quindi queste sono le riforme che il mercato emergente necessita per permettere gli americani di arrivare in loro i paesi quali le grandi notizie dal punto di vista quando si parla di BEPS che cosa si deve intendere per BEPS si intende l'erosione della base imponibile lo spostamento dei profitti questo significa che le singole società le multinazionali in particolare negli anni hanno beneficiato della cosiddetta multinazionalità del diritto a fronte di una globalità dell'economia e quindi una facilità di spostamento una facilità di spostamento soprattutto sulle basi imponibili mobili e con un radicamento per quanto riguarda le attività per esempio dell'economia digitale e quindi gli stati oggi nell'ambito della comunità internazionale stanno lavorando per arrivare ad una fiscalità più allineata quindi la sostanza economica allineata alla fiscalità per far sì che ci sia una tassazione un pochino più corretta un pochino più fair nei singoli stati dove le imprese operano effettivamente internazionale 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 di corretta allaulari di corretta di corretta di corretta di corretta di corretta Grazie a tutti.